Siamo nei vicoli di Bari Vecchia Siamo passati dall'Albania, dall'Albania culinaria La cucina, guarda che c'ho io, guarda che c'ho Dovina chi me l'ha dato questo? Mio nonno Il nonno di Anna Non so accorta, se no mi ho mangiato stamattina Amore mio, mio nonno Bella le vecchiette Buongiorno Ah, quanti prodotti Ma tu potevi fare colazione con un dolce Saludiamo a Padre Pia Grazie a tutti Grazie a tutti Arcinconfraterni da San Giuseppe Ad maiorem Dei Gloria Chiesa di San Giuseppe Chiesa di San Giuseppe E' un bel giorno L'architettura bizantina per esempio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti ma che cazzo? ma non è un po' di torta ma non so, non so, non so non so, non so, non so ma non so, non so ma 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 non so secondo te a Bari ma non so 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.